Michela Taboni è vice sindaco di Irma nonché assessora alla cultura siamo nella bellissima sala civica che anche la biblioteca del comune di Irma ecco dopo il covid abbiamo deciso di di portare la nostra biblioteca qui nella nostra sala civica per avere più spazio e per permettere comunque le attività della biblioteca abbiamo preparato anche una mossa fotografica che era già stata allestita anni fa e in questi giorni l'abbiamo riproposta dove vedrete degli attimi di vita di Irma delle foto di famiglie dai ricordi dell'infanzia e varie immagini di persone le famiglie in questa occasione avevano donato delle loro fotografie e noi ve le abbiamo riproposte all'ingresso di Irma abbiamo visto un cartello con il secondo nome di Irma Erma da cosa deriva questo nome? Dunque si pensa che derivi dal latino Ermus cioè Remita paese piccolo isolato. Nel 2022 Michela sono arrivate due nuove parrucchiane una bellissima evento nel 2022 appunto due nuove parrucchiane ma anche l'anno prima altri due diciamo che negli ultimi due o tre anni ci sono cinque nuovi nati negli ultimi anni erano un po' calate le nascite invece dai qualche famiglia ha deciso di rimanere a Irma e l'ambiente forse ideale per crescere i bambini qualche difficoltà sicuramente c'è però si può superare inoltre poi a scuola i nostri bambini vanno a Tavernole sia come asilo e elementari e medie scuole medie vanno alla consortile e poi comunque siamo serviti molto bene con i pulmini dunque non ci sono disagi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!